25 aprile 1986, sala di controllo del reattore numero 4 della centrale nucleare di Cernobil. È in corso un test di sicurezza notturno. Improvvisamente la temperatura del reattore supera di oltre 100 volte il valore normale. Ogni intervento è inutile. A 1.24 il reattore numero 4 di Cernobil esplode. A 1.24 il reattore numero 4 di Cernobil. Un misto di disinformazione e opportunismo. Avrete il vostro interesse a costruire cattedrali nel deserto. Le motivazioni sono sempre le stesse. E per capirlo non serve un esperto. Certo! C'è bisogno di energia. Ma nucleare non è l'unica via. Prima c'è risparmio e la rinnovabile. Alternativa praticabile. La sua memoria labile gli riesce facile. Dire alla gente dalla televisione. Nessuno dice niente e non c'è altra soluzione. Io dico no! 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 Io ce l'ho impresso in mente. Era un sabato d'aprile differente. Era il 26 e non usci per niente. Era il mio compleanno ma senza una festa. L'Ucraina in tempesta ci pioppe in testa. 2010 qua si sta in piedi. E i politicanti sono uguali ieri. Quelli seri quanti sono tutti un pacco. Per loro siamo zeri dalle Alpi al Tacco. Hanno rifatto un patto scelerato e vecchio. È una scoria sotto il culo della storia. Ecco il futuro oscuro mi ingrigisce. Ecco il sole che mi sento vivo. E' quest'uraneo che mi impoverisce. E col vento gira alternativo. Io dico no! Io dico no! Io dico no! Pro Nucleare! Grazie.